Il 25 settembre del 2018 una farmacista di Helmsley nella contea del North Yorkshire in Inghilterra si trova nella sua farmacia e intenta servire dei clienti quando all'improvviso entrano un uomo e una donna che le chiedono di poter acquistare dell'alcol, quello disinfettante, quello tipico usato anche negli ospedali per intenderci. La cosa che risulta strana è che il giorno precedente i due avevano già acquistato una grossa quantità di alcol in quella stessa farmacia e anche il giorno prima e il giorno prima ancora così la farmacista dopo aver venduto di nuovo l'alcol ai due e averli visti uscire dal negozio decide di chiamare la polizia ma quello che verrà a galla sarà più macabro di quanto potesse immaginare. Amici miei buonasera sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi se vi piacciono le cose macabre, paranormali e il true crime allora siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui e quella di oggi è una storia veramente assurda ragazzi che rientra nella categoria del macabro questa volta non ci imbatteremo in caso di omicidio o caso di violenze chissà cos'altro ma vi assicuro che la storia che sto per raccontarvi vi farà comunque venire i brividi peggio delle altre oggi parliamo di una famiglia molto particolare una famiglia giapponese emigrata in Inghilterra negli anni 70 la famiglia Yasutake composta principalmente da quattro membri e voglio partire col presentarvi la madre una donna di nome Michiko Yasutake Michiko nasce in Giappone nel 1942-43 purtroppo la sua data di nascita non è riportata da nessuna parte così come gran parte della sua vita in realtà all'epoca dei fatti la donna ha ormai 75 anni quindi facendo un rapido calcolo sono risalito all'ipotetica data di nascita ad ogni modo all'età di circa 20 anni Michiko si sposa ma purtroppo ancora una volta non ho trovato chi fosse il suo marito né tantomeno alcune informazioni sul loro rapporto non se ne parla proprio da nessuna parte quello che sappiamo è che alla fine degli anni 60 Michiko dà alla luce tre bambini in ordine Yoshika, la figlia maggiore Rina, la figlia di mezzo e Takahiro, il figlio più piccolo ancora una volta non conosciamo esattamente i loro dati di nascita quindi dobbiamo andare a ipotesi calcolando l'età che avevano durante i fatti gli Yasutake erano una famiglia di rinomati accademici buddhisti e in quanto tali si trattava di persone piuttosto ricche infatti per quanto riguarda l'aspetto economico gli Yasutake potevano ritenersi piuttosto agiati persone che non avrebbero mai avuto problemi di soldi poco dopo la nascita dei figli però non si sa esattamente quando Michiko e suo marito decidono di divorziare per qualche motivo ignoto così la donna si ritrova da sola con i suoi tre figli situazione però che dura poco tempo perché a seguito della separazione Michiko conosce un altro uomo di nome Peter Caledine e dal nome capiamo subito che non si trattava di un uomo giapponese Peter infatti aveva origini inglesi dell'Inghilterra e non passa molto tempo dalla loro conoscenza che i due decidono di sposarsi e trasferirsi anche con i figli di Michiko in Inghilterra all'epoca dei fatti i tre figli erano ancora molto piccoli quindi cresceranno praticamente assorbendo la cultura inglese e occidentale più che quella giapponese la famiglia comunque si trasferisce a Nanninton dove rimane fino alla fine degli anni 90 come vi dicevo prima gli Yasutake non hanno affatto problemi di soldi e proprio per questo motivo i figli di Michiko ricevono la migliore istruzione possibile aiutati anche da questo tutti e tre si rivelano davvero essere dei veri e propri talenti artistici Yoshika, quella più grande, si appassiona al pianoforte e infatti studierà alla Royal College of Music dove diventerà una talentuosa pianista mentre Takahiro si rivela essere un bravissimo scrittore e infatti proseguirà gli studi all'Ampleford College tutti istituti pregiatissimi Rina, la figlia di Mezzo, sarà probabilmente quella che si rivelerà essere la stella della famiglia Rina infatti studierà in una delle scuole più prestigiose di tutta l'Inghilterra la Queen Mary's School dove in tutto il suo percorso scolastico eccellerà in qualsiasi materia i suoi compagni l'hanno sempre descritta come una ragazza molto tranquilla e studiosa ma anche con un ottimo senso dell'umorismo e sempre pronta a socializzare con tutti stare in compagnia, ridere, scherzare insomma, una ragazza fantastica dopo il diploma studierà alla Wycombe Abbey School dove si specializzerà in lingue in particolare in latino e greco successivamente riceverà anche una borsa di studio per l'Università di Cambridge dove studierà letteratura classica e si specializzerà poi in linguistica Rina quindi arriva in età adulta conoscendo perfettamente il giapponese l'inglese, il greco e il latino ma nonostante la sua grande passione per gli studi classici nutre anche un forte amore per l'arte e infatti si rivela essere un artista brillante tant'è che alcune delle sue opere vengono pubblicizzate nei giornalini della scuola e altre verranno addirittura vendute Rina quindi ha una brillante carriera davanti a sé ha appena terminato gli studi in una delle università più prestigiose non solo in Inghilterra ma nel mondo conosce ben quattro lingue ed è anche un artista di grandissimo talento nonostante tutto questo però subito dopo la laurea la ragazza decide di tornare a casa dalla sua famiglia che si trovava ancora a Nannington non mi è ben chiaro il motivo per cui abbia preso questa decisione ma anche sua sorella maggiore Yoshika e suo fratello Takahiro seguiranno le sue stesse orme terminati gli studi decideranno anche loro di tornare a casa dalla madre e dal patrigno Peter e così dopo gli anni dell'università di tutti loro la famiglia si riunisce una volta tornati a vivere insieme tuttavia qualcosa cambia nella famiglia Yasutake i membri iniziano in maniera molto lenta e graduale ad isolarsi e ad allontanarsi dalla società rompendo pian piano i contatti con il mondo esterno il vero cambiamento però arriva nel 1998 quando Michiko decide di divorziare da Peter ovvero l'uomo che l'aveva portata anni prima in Inghilterra e così Michiko e i suoi tre figli decidono di cambiare casa si trasferiscono in una sorta di cottage quelli inglesi tutti attaccati l'uno con l'altro sulla Bond Gate nel minuscolo paesino di Helmsley che conta poco più di 1500 abitanti e quello diciamo che rappresenta il vero e proprio declino per la famiglia Yasutake perché a partire da quel momento i quattro decidono di isolarsi completamente dal mondo lì non possiedono nessun televisore in casa nessun computer e nemmeno una radio quindi non hanno modo di comunicare con il mondo esterno se non tramite delle lettere scritte che inizialmente continuavano comunque ogni tanto a ricevere e a rinviare e soprattutto ricordiamoci che siamo alla fine degli anni 90 quindi non c'erano nemmeno i cellulari già c'erano ma non erano utilizzatissimi quindi in ogni caso figuratevi se loro l'avrebbero preso e utilizzato comunque in particolare due membri della famiglia si isolano ancora di più degli altri ovvero la madre Michiko e Rina la figlia di mezzo quella che era la più brillante socievole entrambe cominciano a passare praticamente la maggior parte del loro tempo nelle loro stanze senza quasi mai uscire se non per andare magari in bagno o a mangiare qualcosa pensate addirittura che i vicini di casa all'epoca credevano fermamente che in quella casa vivessero solo Yoshika e Takahiro e che si trattasse di una coppia sposata e non di due fratelli la gente del posto trattandosi ovviamente di un minuscolo paesino comincia a parlare cominciano tutti rapidamente a farsi tante domande su questa strana coppia che cammina per strada sempre in silenzio evitando qualsiasi contatto visivo e i due cominciano così ad essere considerati un po' quelli strani del villaggio se così possiamo dire pensate che quando dovevano andare a fare la spesa Yoshika e Takahiro decidevano di preordinarla in anticipo per iscritto così al momento di ritirarla sarebbero soltanto dovuti entrare nel negozio e recuperare il cibo e la spesa senza doversi trattenere a lungo praticamente la famiglia Yasutake diventa una sorta di famiglia fantasma e davvero non si riesce a capire il motivo di questo cambiamento repentino di questa estrema voglia di isolarsi dal mondo perché come vi dicevo i tre figli avevano ricevuto un'ottima istruzione ed erano sempre stati molto attivi sia nella società che in tutte le attività extrascolastiche quindi è veramente ambiguo che una volta terminati tutti gli studi abbiano tutti deciso di tagliare completamente i rapporti con chiunque e in generale con il mondo esterno tutto questo ad ogni modo va avanti fino al 2010 anno in cui la situazione prende una svolta ancora diversa in quel periodo infatti Rina inizia ad avere dei comportamenti molto strani dei comportamenti che non erano da lei e la sua salute mentale come era prevedibile comincia un lento declino le case ovviamente possono ricondursi al fatto di aver passato tutti quegli anni di totale isolamento senza parlare con nessuno senza avere contatti con nessuno se non con i membri della sua famiglia in realtà però Rina parlava poco anche con loro perché come vi dicevo dopo il trasferimento al cottage la donna aveva deciso anche di isolarsi dalla sua stessa famiglia all'interno della sua stanza un altro dei motivi che sicuramente l'ha portata a isolarsi sempre di più però è stata la morte del suo padre biologico in Giappone in alcune fonti è riportato che suo padre era morto appunto in quel periodo ma nessuno dei figli si è recato al suo funerale non sono andati fino in Giappone questo penso che abbia scombussolato comunque parecchio la salute mentale già instabile di Rina e così i suoi sbalzi d'umore hanno cominciato a diventare sempre più ricorrenti fino a sfociare anche a volte in episodi di aggressività pensate addirittura che un giorno Rina finisce per aggredire fisicamente uno dei suoi familiari anche se non sono riuscito a capire chi fosse perché anche qui non se n'è parlato da nessuna parte per questo motivo nel 2013 Rina decide di chiedere aiuto al medico di famiglia per poter iniziare magari una terapia contro i suoi disturbi comunque iniziare un percorso di guarigione poter intraprendere anche magari una cura farmacologica e questo qua ragazzi è un gesto di estremo coraggio che denota comunque la volontà di volersi migliorare tornare ad essere felice tornare alla vita del prima insomma lei quindi non era felice a stare tutto il tempo in camera chiusa da sola ovviamente ma purtroppo a quanto pare Rina alla fine avrebbe rifiutato di cominciare una cura e sarebbe tornata a chiudersi in camera tutto il giorno e tutti i giorni dopo il suo ritorno a casa non avrebbe nemmeno più consumato i pasti insieme alla sua famiglia infatti avrebbe chiesto ai suoi fratelli di portarle il cibo direttamente nella sua stanza e avrebbe smesso di utilizzare il bagno di giorno uscendo così solo di notte per i suoi bisogni in modo proprio da evitare chiunque anche la sua stessa famiglia col passare del tempo le sue condizioni continuano a diventare sempre più preoccupanti anno dopo anno fino ad arrivare all'aprile del 2018 secondo quanto riferito da quel momento Rina avrebbe iniziato anche a rifiutare il cibo e l'acqua ogni volta che Yoshika e Takahiro le portavano il vassoio con i pasti e poi tornavano a riprenderlo notavano come Rina mangiava sempre di meno e ogni volta il cibo sul vassoio era sempre più intatto i fratelli a quel punto iniziano seriamente a preoccuparsi per Rina che diventa sempre più irascibile e incontrollabile il suo aspetto fisico ovviamente inizia a cambiare notevolmente la donna diventa sempre più magra e sempre più debole pensate che questa situazione di quasi digiuno va avanti per mesi Rina per un periodo è costretta dai fratelli a consumare almeno un po' di pane e bere un po' d'acqua per rimanere in vita insomma ma una volta arrivati all'estate del 2018 la donna smette completamente di mangiare ogni volta che Takahiro va in camera sua per riprendere il vassoio nota come la sorella non l'abbia minimamente toccato il fratello ovviamente è sempre più preoccupato e cerca in tutti i modi di spronarla a mangiare ma lei semplicemente si rifiuta in quel periodo Rina avrebbe smesso di nutrirsi di cibo e di acqua come qualsiasi essere umano ha bisogno di fare per sopravvivere e avrebbe scelto di nutrirsi di cibo spirituale tra virgolette per nutrire solo ed esclusivamente la sua anima vi starete sicuramente chiedendo perché a questo punto vedendo che la donna non è ovviamente in sé e sta praticamente morendo di fame i suoi fratelli e loro madre non l'abbiano portata in ospedale no? beh mi son fatto la stessa domanda e mi son dato anche un po' di risposta al riguardo che attenzione però sono solo mie considerazioni prima di tutto comunque anche Takahiro e Yoshika avevano smesso di avere contatti con il mondo esterno e quindi sicuramente anche la loro sanità mentale era stata intaccata non poco oltretutto come vi dicevo all'inizio gli Yasutake provengono da una famiglia di buddhisti e sono molto devoti verso la loro religione ho scoperto infatti che nella religione buddista c'è una pratica una pratica chiamata Sokushinbutsu di cui vi parlerò però meglio dopo e che sarà strettamente collegata con questa scelta di Rina quindi tenetela a mente ad ogni modo questa situazione va avanti per mesi fino a quando Rina non diventa ormai pelle e ossa e non parla nemmeno più con i suoi fratelli nel settembre di quell'anno quindi nel 2018 Yoshika e Takahiro usciranno solo ed esclusivamente per comprare del cibo e per acquistare alcuni prodotti nella farmacia di paese da ormai qualche settimana i due fratelli si ricavano lì quasi ogni giorno per acquistare delle bottiglie di alcol ma la farmacista, una donna di nome Eva Ward dopo un po' comincia a nutrire dei sospetti su di loro in primo luogo Yoshika e Takahiro non dicono mai una sola parola quando entrano in farmacia e hanno quasi sempre il volto semi coperto Takahiro è l'unico a dire qualcosa ma solo quando e se è strettamente necessario Eva Ward ritiene ovviamente molto strano il loro comportamento ma come vi dicevo ormai erano anni che tutto il paesino li considerava come strani sapevano tutti che i due si comportavano così davvero in maniera un po' strana quindi anche la farmacista ormai non faceva molte domande al riguardo quello che però inizia a preoccuparla sul serio farle venire qualche dubbio sono due cose in primo luogo come vi dicevo i due cominciano ad acquistare sempre più alcol e quindi ovviamente è una cosa dubbiosa fa venire dei dubbi cioè giorno dopo giorno loro ogni volta chiedevano sempre più bottiglie all'inizio erano solo due bottiglie alla volta ma alla fine hanno cominciato a chiederne praticamente 4-5 al giorno un giorno quindi la farmacista decide di farsi avanti e chiedere loro quale fosse la ragione per cui comprassero sempre tutta questa quantità di alcol e Takahiro con un filo di voce risponde che serviva la loro sorella Rina ma non aggiunge altro ciò che davvero insospettirà la farmacista però sarà qualcos'altro ovvero la puzza terribile che emanavano i due fratelli da quando avevano iniziato a recarsi in farmacia ogni giorno la farmacista aveva notato come i due emanassero un odore sempre più forte e sempre più sgradevole al punto che nel giro di pochi secondi l'intera farmacia era impregnata di quella puzza terribile e se vi state chiedendo quale fosse questo odore terribile che sentiva la farmacista beh era odore di putrefazione una delle puzze più terribili per noi esseri umani se non sbaglio per un fattore evolutivo quando sentiamo l'odore di putrefazione pensiamo al pericolo perché qualcuno ha perso la vita quindi il luogo in cui c'è quell'odore non è sicuro come forse vi avevo già spiegato in altri video l'odore di putrefazione viene percepito in maniera davvero molto forte da noi lo percepiamo proprio come pungente che infesta qualsiasi cosa un odore che appunto in pochi minuti si attacca ovunque e Takahiro e Yoshiko da settimane emanavano questo fortissimo odore di morte e se lo portavano dietro ovunque un giorno il 28 settembre del 2018 dopo aver acquistato grande quantità di alcol quel giorno ancora più del solito la farmacista decide finalmente di chiamare la polizia al telefono riferisce che da qualche settimana una strana copia continuava ad acquistare tantissimo bottiglie di alcol e ovviamente parla anche della puzza che emanavano riferisce agli agenti che secondo lei c'era qualcosa di strano e che non sarebbe stato male andare a dare un'occhiata a casa dei due per ironia della sorte cioè questa chiamata è stata piuttosto inutile in realtà perché oddio inutile no però per ironia della sorte appunto quello stesso giorno alcuni operai si trovavano proprio a casa degli Yasutak per fare alcuni lavori sul tetto ovviamente loro non erano entrati in casa ma erano semplicemente saliti sul tetto per fare alcuni lavori di manutenzione ma comunque una volta sopra gli uomini hanno iniziato a sentire questo odore fortissimo un odore di carne in putrefazione pensate quanto dovesse essere forte perché arrivasse perfino agli operai e sopra il tetto comunque uno degli uomini per questo motivo decide di contattare la polizia e così nel giro di poco tempo ben due pattuglie si ritrovano davanti all'abitazione della famiglia Yasutake strana questa coincidenza quello che troveranno all'interno ragazzi sarà davvero una scena che penseremmo possibile solo in un film horror ma non sarà il solito scenario che vediamo di frequente nei casi che affronto qui questa volta non ci saranno armi del delitto non ci sarà sangue segni di violenze ma qualcosa di più macabro ho immaginato la scena come se fosse un manga di Junji Ito non so se conoscete e davvero sembra appunto una scena di finzione di un manga horror e invece no era tutto vero raga gli agenti arrivano sul posto e bussano alla porta e coloro che vanno ad aprire sono ovviamente Takahiro e Yoshika che come vi dicevo erano ormai gli unici ad avere un minimo di contatto col mondo esterno ciò che assale subito i poliziotti ovviamente è come uno schiaffo della terribile puzza insopportabile di putrefazione talmente forte e pungente che gli agenti sono costretti a tirarsi sulla maglietta per entrare in casa ovviamente però neanche quello è abbastanza la polizia riferisce loro di aver ricevuto ben due segnalazioni quella mattina a causa appunto di un odore molto sgradevole provenire da loro e dall'abitazione e dicono ai due fratelli di voler fare un sopralluogo all'interno per verificare che sia tutto a posto ovviamente in quel momento loro avevano già capito che non era tutto a posto quella puzza terribile poteva significare solo una cosa Takahiro e Yoshika a quel punto senza dire una parola fanno cenno ai poliziotti di seguirli al piano di sopra man mano che gli agenti salgono vengono sempre più travolti da questa puzza insopportabile che raggiunge il suo culmine quando arrivano davanti alla porta di una delle camere da letto facendo capire agli agenti che si trovava lì dentro la fonte dell'odore Takahiro apre lentamente la porta della stanza e la scena che i poliziotti si trovano davanti penso che li abbia scioccati per sempre sdraiata sul letto c'è Rina o meglio il corpo di Rina in avanzato stato di decomposizione la ragazza pensata era morta ormai da settimane gli agenti alla vista di quella scena rimangono senza parole ovviamente intanto Takahiro, Yoshika e anche Michiko rimangono lì sulla soglia della porta senza dire niente e con sguardo totalmente perso nel vuoto la polizia non sa bene come comportarsi perché quando iniziano a fare delle domande alla famiglia nessuno di loro riesce effettivamente a dare spiegazioni o a rispondere in maniera logica proprio non riescono a fornire spiegazioni in inglese questo ovviamente risulta strano perché la famiglia Yasutake era in Inghilterra da tantissimi anni Michiko aveva sposato un uomo inglese e i tre figli erano cresciuti parlando inglese era diventata praticamente la loro prima lingua le domande quindi col passare dei minuti non fanno altro che aumentare ma la famiglia appunto non riesce a fornire nessuna spiegazione comprensibile così il corpo di Rina viene portato via e tutti i membri della famiglia vengono accompagnati alla centrale di polizia gli investigatori dopo essere venuti a conoscenza del caso rimangono piuttosto perplessi prima di tutto non sapevano bene di cosa accusare i membri della famiglia perché nonostante un membro fosse effettivamente stato trovato morto in casa a quanto pare non c'era stato nessun omicidio nessuna traccia di sangue in giro nessuna arma dell'elitto niente ma gli agenti vogliono vederci chiaro vogliono assolutamente sapere di più sulle dinamiche che hanno portato a quella strana scena macabrissima perché non era solo in stato di putrefazione raga tra poco ci arriviamo in poche ore ovviamente la notizia fa il giro del villaggio e sulla bocca di tutti viene quindi chiamato un interprete giapponese in modo tale da poter comunicare con la famiglia con la speranza di farsi raccontare cosa sia successo tra le mure di quella casa però questo tentativo si rivela vano e il motivo è che gli Yasutake non parlavano nemmeno giapponese lo so a questo punto vi starete chiedendo come sia possibile una cosa del genere cioè che una famiglia di origine giapponese è vissuta in Inghilterra per tutti quegli anni non sappia né parlare il giapponese né parlare l'inglese e il motivo è che a causa dell'isolamento durato anni e anni decenni i membri avevano praticamente iniziato a comunicare con una sorta di dialetto inventato da loro questa lingua però era molto particolare e si allontanava tantissimo dal giapponese tradizionale e da qualsiasi altro dialetto presente in Giappone e quindi è stata necessaria la presenza di ben 5 interpreti giapponesi per cercare di capire cosa fosse successo in quella casa o meglio per decifrare la loro lingua pensate per quanto tempo erano rimasti isolati per arrivare a tutto ciò non so nemmeno se sia possibile dimenticare totalmente una lingua ma considerando appunto l'isolamento prolungato immagino sia plausibile comunque gli unici a parlare alla fine saranno Takahiro e Yoshika che spiegheranno cosa è successo a Rina negli anni precedenti raccontano di come a partire dal 2013 abbia iniziato a soffrire di alcuni disturbi mentali e di come il suo isolamento si sia intensificato così tanto da arrivare proprio a non uscire più dalla sua stanza e da non voler parlare con nessuno spiegano che invece da alcuni mesi la donna aveva iniziato a rifiutare il cibo e anche l'acqua e raccontano della sua volontà di nutrirsi solo di cibo spirituale per nutrire la sua anima ma ora arriviamo alla parte più strana e inquietante della storia come se già non lo fosse abbastanza gli agenti chiedono ai due fratelli quando fosse morta Rina insomma quale fosse il giorno in cui avesse smesso di respirare e ciò che rispondono li avrebbe lasciati piuttosto spiazzati tutti quanti i due fratelli con totale tranquillità rispondono che Rina in realtà non era morta dicono che Rina è ancora viva che respira ancora e che il suo cuore continua a battere a seguito di queste dichiarazioni l'investigatore incaricato del caso decide di uscire un attimo dalla stanza per fare chiarezza e per parlare con alcuni interpreti le domande a quel punto ovviamente sono tantissime e non c'è una risposta che possa far luce sulla vicenda anche perché Michiko non spiccica mezza parola e Takahiro e Yoshiko non sembrano lucidi sembrano non capire in effetti quello che era successo gli agenti quindi in quel momento decidono di mandare tutti a casa perché convinti che al momento la famiglia fosse sotto shock per la perdita di Rina e quindi comunicano loro di tornare il giorno seguente dopo aver riposato un po' il detective incaricato del caso però ha la sensazione che quegli strani comportamenti della famiglia non siano scaturiti dalla morte di Rina e per questo decide di chiamare uno psicologo forense e uno psichiatra che il giorno dopo avrebbero dovuto assistere all'interrogatorio dei membri della famiglia così da fare loro una valutazione sulla loro salute mentale il giorno seguente quindi i membri della famiglia tornano in centrale e si continua con l'interrogatorio anche se in realtà nessuno è in arresto o accusato di omicidio intanto però viene effettuata l'autopsia sul corpo di Rina dal coroner John Heath per fare un po' di chiarezza insomma sulla causa della sua morte ma purtroppo non viene fuori quasi nulla o meglio non è stato possibile stabilire la causa della morte perché il corpo di Rina ovviamente era troppo in stadio avanzato di decomposizione ciò che viene confermato però è che la donna non era morta per nessuna ferita da taglio non viene neanche trovato nessun colpo d'arma da fuoco nessun foro di proiettile non aveva malattie, si constata anche e non prendeva alcun tipo di farmaco alla fine la sua morte quindi verrà classificata come morte naturale ma torniamo un attimo all'interrogatorio degli Yasutake gli agenti chiedono ai due fratelli di ripetere nuovamente tutta la vicenda e di raccontare tutto ciò che era successo negli ultimi mesi e negli ultimi anni ma quando si arriva di nuovo alla fatidica domanda quando è morta Rina? la risposta è di nuovo la stessa Rina non è morta è ancora viva respira ancora gli agenti allora riferiscono ai membri che il motivo per cui erano stati chiamati il giorno prima dalla farmacista era proprio a causa del fortissimo odore di putrefazione che emanavano costantemente e il sospetto era anche caduto sulle decine e decine di bottiglie di alcol che acquistavano da parecchie settimane quando Takahiro sente nominare le bottiglie di alcol risponde semplicemente che l'alcol serviva per Rina in nessuna fonte però ha spiegato cosa facessero esattamente i due con tutto quell'alcol ma in un documentario che racconta ovviamente la vicenda è spiegato che Takahiro e Yoshika probabilmente utilizzassero l'alcol per spalmarlo su tutto il corpo di Rina con l'aiuto di alcuni panni imbevuti ovviamente della sostanza in pratica prendevano questi panni li imbevevano nell'alcol e facevano letteralmente il bagno a Rina che era già morta ricoprendola di alcol tutto il giorno praticamente e l'obiettivo di questa pratica secondo questo documentario era quello di mummificare il corpo e ritardare il più a lungo possibile la decomposizione questo però andrebbe contro le affermazioni di Takahiro in quanto lui aveva detto di credere che la sorella fosse ancora viva quindi se erano tutti convinti che non fosse morta perché voler mummificare il corpo? beh in realtà c'è una risposta pure a questo anche se risposta non è proprio il termine più adeguato ma diciamo che possiamo trovare una sorta di spiegazione anche a questo come sapete la famiglia era molto devota alla religione buddista e se siete stati attenti prima vi parlavo di una pratica chiamata Sokushinbutsu vi cito testualmente quello che ho trovato sul web per definirlo perché non avrei parole, cioè non posso fare altro il termine Sokushinbutsu significa letteralmente Buddha nel suo stesso corpo si riferisce a un particolare rituale religioso buddista praticato a partire dall'undicesimo secolo da svariati monaci giapponesi quelli che lo praticavano attraverso una lunga e dolorosa preparazione mentale, fisica e alimentare che culminava ovviamente con la morte predisponevano volontariamente il proprio organismo a un processo di automummificazione quello che caratterizza questa pratica è che a differenza delle altre tecniche di conservazione del corpo come per esempio la mummificazione dell'antico Egitto in questo caso la preparazione alla mummificazione avviene mentre colui che vi si sottopone è ancora in vita e se ci pensate Rina aveva smesso di mangiare e di bere da settimane per prepararsi a questo rituale e i fratelli avevano affermato che la donna fosse ancora viva nelle prime fasi di mummificazione ora io non credo proprio che Rina fosse ancora viva quando Yoshika e Takahiro le spalmavano l'alcol addosso ma penso che loro lo credessero davvero secondo alcuni diari trovati dai detective nel cottage della famiglia le ultime volte che qualcuno ha scritto qualcosa, lì dentro i diari è riportata la data 18 agosto, quindi più di un mese prima dal ritrovamento di Rina non ho capito bene chi scrivesse su questo diario perché non è proprio chiarissimo allora inizialmente penso fosse Rina ma quando ha iniziato a sentirsi sempre più debole per via del digiuno allora credo che fossero Takahiro o Yoshika a scrivere e in breve in tutte le pagine si parlava della condizione di Rina e di come giorno dopo giorno si avvicinasse sempre di più alla fase di mummificazione e appunto diventasse sempre più debole e stanca da quel giorno non è stato più scritto nulla e quindi si è ipotizzato che il decesso fosse avvenuto intorno a quei giorni lì i membri della famiglia Yasutaka alla fine sono stati accusati di aver negato una degna sepoltura a Rina e basta l'avvocato della famiglia Craig Hassel Casey però ha insistito fin da subito sul fatto che nessuno dei membri sarebbe stato in grado di sostenere un processo l'accusa quindi verrà interrotta quando si è effettivamente constatato che i membri della famiglia soffrivano di un raro disturbo mentale che però in nessuna fonte è specificato ragazzi se voi avete qualche informazione in più per caso l'avete trovato da qualche parte scrivetelo perché io ero interessatissimo e non ho trovato questo disturbo comunque io penso e ovviamente sono una mia opinione sono anche curioso di sapere la vostra che alla base nessuno dei membri soffrisse davvero di qualche patologia mentale proprio all'inizio i figli di Micico sono cresciuti ricevendo la migliore istruzione possibile durante la loro carriera scolastica avevano una vita sociale molto attiva frequentavano tutte le attività extrascolastiche partecipavano agli eventi organizzate dalla scuola uscivano facevano cioè avevano una vita normale normale anzi forse addirittura di più rispetto a quanto fa una persona normale erano veramente attivissimi nella società un sacco di amici uscivano quindi come vi dicevo poi erano anche tutti dei ragazzi super talentuosi Yoshika sarebbe potuta diventare una famosa pianista era bravissima Takahiro aveva una grandissima passione per la scrittura Irina conosceva quattro lingue ed era un artista di grandissimo talento ciò che mi ha incuriosito di questa storia è stato proprio questo il fatto che da un momento all'altro i membri abbiano deciso di tagliare completamente i ponti con chiunque e isolarsi sicuramente penso che le cose siano davvero peggiorate a seguito dal divorzio di Michiko da Peter perché da quando gli Yasutake si sono trasferiti poi nel cottage hanno proprio stroncato definitivamente qualsiasi rapporto col mondo esterno Michiko e Irina si sono totalmente isolate anche dalla loro stessa famiglia e se ci pensiamo al momento in cui sono avvenuti i fatti erano ormai più di vent'anni che non parlavano più con nessuno noi siamo animali sociali e abbiamo bisogno di confrontarci con gli altri di ricevere stimoli di fare esperienze in compagnia di comunicare penso che Yoshika e Takahiro siano quelli rimasti un po' più sani tra virgolette ma solo perché avevano una minima interazione col mondo esterno perché uscivano, che andavano a fare la spesa recuperavano il cibo e tutto il resto e un'altra cosa che mi ha incuriosito tantissimo è stato il fatto di aver inventato praticamente una lingua tutta loro per comunicare questo fa davvero capire quanto fossero completamente fuori dal mondo anche già solo per il fatto di non possedere un televisore comunque o semplicemente una radio questo significa che probabilmente non sentivano neanche mai parlare inglese piano piano è come se l'avessero dimenticato completamente penso fermamente che questo caso dovrebbe essere oggetto di studio per molti esperti perché è la dimostrazione che l'isolamento prolungato rende la mente umana completamente sconnessa da tutto cioè soprattutto aumenta notevolmente il rischio di incorrere in disturbi mentali l'isolamento è assurdo e questo era il bizzarro e macabro caso della famiglia Yasutake so che è molto diverso dai soliti argomenti che affrontiamo ma è una storia talmente assurda che appena ne ho sentito parlare ho pensato che dovevate conoscerla a tutti i costi fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate ditemi tutte le vostre opinioni perché trovo davvero l'argomento tanto interessante gli effetti dell'isolamento sulla mente umana sono davvero devastanti come abbiamo visto anche in altri video per esempio non so se vi ricordate il caso di Gini la bambina selvaggia vi ricordate? si vi ricordate nel suo caso praticamente lei era stata completamente isolata già dalla tenera età e i risultati sono stati catastrofici in ogni caso credo davvero che questa storia debba essere studiata più a fondo per capire con chiarezza tutto ciò che è successo anche perché le domande senza risposta sono decisamente troppe detto questo se in qualche modo anche oggi vi è piaciuto passare del tempo con me io vi invito a mettere un mi piace a questo video o un non mi piace se invece non vi è piaciuto che vi devo dire e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricorda youtube non si sbaglia mai e qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao ciao